Mi piaci veramente. Chi? Mi senti? Sì. E ti devo dire una cosa importante, stai giocando? No, sto chiamando. Aspetta! Cos'è che hai detto? Sto a casa con un amico mio. E... Un'amica. Un amico! Sei sicuro, Cristiano? No, 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 stai tranquillo. E ti devo dire una cosa seria, però. Te la dico? E... Mi piaci veramente. Cosa ne pensi? Aspetta. Leggi un secondo. Cosa ne pensi? Che dove sta? Dimmi te, cosa ne pensi? Non pensi. Eh. Eh. Cosa ne pensi, Cristiano? Come mi giuro a me. Va bene, dai. Dopo ti chiamo. No, 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 no